Un comunicato stampa del Comune di Asso riporta al monitoraggio per quanto riguarda le vibrazioni che vengono registrate in zona scarena. In particolare si rende opportuno dare nota ai cittadini di Asso con un breve riepilogo in merito ai procedimenti in corso per il monitoraggio delle vibrazioni avvertite in alcune abitazioni appunto della frazione scarena. Lo scorso mese di settembre-ottobre alcuni abitanti segnalarono di avvertire nella propria abitazione delle vibrazioni in determinate ore della giornata. Confrontando questa segnalazione con quella precedentemente riferita ad un episodio avvenuto nel 2011 in cui la sorgente delle vibrazioni era stata individuata in una ditta a Canzo, l'amministrazione comunale di Asso ha segnalato il fenomeno al Comune di Canzo. Lo stesso ha quindi condotto una prima indagine comunicando successivamente che la responsabilità delle vibrazioni non era da imputare alle ditte che avevano sede sul territorio canzese e quindi invitava il Comune di Asso a fare intervenire l'ARPA, l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente per individuare la causa delle vibrazioni. Pertanto si è convenuto di effettuare una prima indagine congiunta con gli uffici di polizia locale di Canzo e di Asso evidenziando come lo scorso mese di novembre la provenienza delle vibrazioni fosse da individuare all'interno della stessa ditta già ritenuta responsabile dell'evento accaduto nel 2011. Pertanto il Comune di Canzo, competente territorialmente, invitava la ditta ad intraprendere tutte le azioni correttive. Non essendo pervenuta risposta in merito, il Comune di Asso ha inoltrato una lettera all'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente chiedendo l'intervento di un tecnico per la rilevazione e il monitoraggio delle vibrazioni, rilevazioni che verranno effettuate nei prossimi mesi.